Sì, non uscì, ho detto... Nudo 1 Nudo 1? Sì, nudo 1 Ok, secondo set di dopo 8 qualifier Allora intanto... Molto altro feed Stai giocando la nutrizione Vediamo dov'è Sì, sì, c'è la vista Allora, vediamo Tanto qui, scambi di neutral Fair a fair Scambi di neutral a qui 47% Event completamente Event completamente Se questo è il best-tracking Vediamo solo quella che si scende Riesce a uscire Arriba Lala Arriba Lala E... Danni Danni Un po' troppo tardi con la smash Ok, niente Ok, niente Ok, niente Ti hai... Bravo, 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 bravo Mi sa che siamo su un'autosione per andare a leggere Forse da un... da un tic... Mi sa che da un tic... Penso poi leggere Cioè leggere il suo che... Oh, non lo so Non lo so, non lo so Io penso che non abbia Eh... Diciamo che se... Il buono è tanto il tempo a tutto Visto una stopper E... Prende una stop shot E tutto... Allora, secondo me Ma... Una cosa che ha molto bella Senti, un'ottima stovaccia E' che... Si gestisce molto bene Che uscire Quando uscire a leggere Un'area Sì Che... Lui non prende la stock Fa un step pesante Beh, non... Shadow non lo fa tanto Penso un altro po' E poi l'area con... Ecco Uh... Rileggere il sound E gli prende E gli prende Eh... Devo cercare di prendere un po' E invece... Invece no No, e adesso... Qui Shadow dove trova la stock E la trova superissimo Che Shadow trova la prossima stock Per l'intermint perderà E non c'è la trova La stock Eh, non è proprio il massimo Però... La pesa 37% Allora, Shadow prima del game E' detto non era molto coltivo No, costumaggio a me No Perché abbiamo lettrale che solo Simone Massacre si ha perso Ma da Simone No, da Hepatitis Da Hepatitis Ok Eh, vabbè Sono due Samus Completamente diversi Andrò Non c'è nulla di... C'è... Un due Samus Completamente diverso Però... Notiamo che questo è tutto Questo è un altro Un finale che dà post Lo Shadow Eh... Adesso vediamolo qui Speriamo che Trovi la stock Velocemente Un fear È avvenuta la nostra squadra Nello stegno Eeeh Backthrow Non l'ammazza? No, non l'ammazza Non l'ammazza Non l'ammazza Non l'ammazza Non l'ammazza No, no... Si è fatto un... Io è il pessimo però... Eh... Situazione... E non l'ammazza Vedi da un teore No, no... Kill move... Plane 0 Vabbè Il PG verrà cambiato Il PG verrà cambiato Deve tu da? No, siccome no Ho visto giocare solo Sephinoth LittleMack Non credo Voglia di schiarselo LittleNot Ha giocato anche Joker E allora può darci No, no... Allora, intanto lo stage No La prima volta in 3 music No E Chi ci ha visto lui E il Joker rosso Il Joker rosso che Ed è la Questa base Consci gaming Consci gaming Allora, vediamo come va sta situa Allora, lo stage Ci sta Lo stage ci sta E' vantaggio per entrambi Possono sfruttarlo molto molto bene Joker ha Una send delle opzioni a leggere Sono allucinanti Allora, veniamo già la send Pronto dopo neanche 10 secondi di game Sfruttare Sfruttare Che fastidioso quel vento Che fastidioso Eh, vai noto poi No, no, no Queste cose non si fanno Queste cose non si fanno Eh ma Qui vediamo un po' Forse non si fanno No, forse non c'ha prima experience E' una parte di shaw Non lo so Non possiamo se Ehm Il Joker non puoi installare Mio No, strudando Poi c'è Se hai la... Se metti... Se sei... Se hai la... Se hai l'UK Allora... Ancora ancora Non è che la cringe out ci poteva stare, ci poteva stare. Non poteva stare la cringe out. Però... Sai B per coprire il rientro? Scusate, porta a casa la sua prima stop. Però il semi è già finito. Il semi è finito. Eee... Non è che l'hanno pulito? Mamma mia! Simone è molto bravo lì. Ha tirato, hai visto? Ha tirato il charge shot e ha poterto subito con un fe. Sì, sì. Super solida attenzione. Siamo, c'è la fine, cioè... È solido come personaggio. Arsene ritorna. Un momento sbagliato a posizione. Arsene ritorna. La shot pack. Era messo quell'angolo. C'era le pompe, c'era le sottancate al lente. Sì, sì, sì. Una stock per più vantaggio da parte il semi. Vediamo se Shadow riesce a riportarsi la casa. Adesso torna già Arsene. 80 per cento. 80 per cento. Quante camp e Sanchez. Quante, quante Sanchez. Due lente. Sballa sempre il gioco, grazie. Ah. Questo è sempre topo. Ah, mia quantità. Non l'ha preso. Simone sta giocando bene. Non ce la dire. Simone sta prendendo più tempo. Ah, dai, ciao. Latte. Simone è giocato super solido. Ho giocato paziente. E... Mi è piaciuto. Mi è piaciuto il semi play. Anche proprio tirava i charge shot e poi... Copriva i salti. Copriva i salti. Copriva il salto. A parte che Faire copre i salti. E a Faire copre i salti. E a Faire copre i salti. Quelli che stanno arrivando già. E sono tanto soccasciato. Che cosa si metta dentro. Torna Sephiroth. Ha detto? Ho detto che torna a Sephiroth. Aspetto prima di metterlo perchè... Non lo so. Ma lo puoi selezionare mica tanto. Sì, sì, sì. Torna Sephiroth. Skin nuova di nuovo. Eh, non so se bisogna sempre essere su skin. Stai collegando K. Vanno su Stadium. Vanno su Stadium. Ok. Scelta della segra. Song. Bella ossa di Pokemon. Così mi piacerebbe, cazzo. Verso Team Skull. Non è la canzone di Guggetti? Sì. Guggetti. Sì. E' la Sabl da parte di Simone. E' skin bianca. Ah questa? Questa. Eh questa. Sì. Eh questa. Trascia. Sì. Sì. Un pochino pieno, quindi vedete un pochino. Ah ah ah. E' per poco ridere. No eh! Vabbè! Non si compra per uno. Eh ok. Qui ripartiamo di un Segligo. Sì, diciamo che il Joker prima non ha pagato tanto, adesso si riuscite a gestire un po' meglio per il set Prima, ci sta la scelta, ci sta la scelta Siamo a 20 secondi, già uscita l'ala Eh, già uscita l'ala, siamo a 94% da parte di Shadr Ok, qua per il testo di nuovo Sì Sto, va bene Parlo, cari, va bene Arriva il super pane Eccoci qua, il cibi di panina Che game, fantastico Simone che torna la carica Nel ultimo momento sei iscritto qua Sì, non voleva neanche venire Però è qua la bombetta Si autotima contro il counter Però non sta andando male come prima Cioè, è ancora vivo Shadr E stimola è già una percentuale Ah, tutto già Vabbè Ok, potremmo arrivare in charge Così Uh, è così Intercetta il velo Il campone di Samus E qua L'avremmo preso comunque Uh, bene, è ancora vivo a 190 Assurdo La charge è da 70% Dico Ok E' un po' troppo spesso Succede, succede, succede Andiamo a una percentuale di APR Ok, come stalla lì quel PSYB No, no Ho fatto molto bene Eh, di Shadr non sapeva che poterà sfidare in me Mettere colpi Di cosa colpi Della Jabba Uh, è bella mossa Probabilmente Samus avrebbe connesso Sì Perché è un po' più alto Il suo Dark Samus è una mossa che fanno in basso Ha fatto un 86B di fronte Anche la faccia Stai 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 Alla, lo può fare posto Alla, lo può fare posto Alla, lo può fare posto Alla, lo può fare Com'è Esce la rita red In Sanus Scusi Di un forte nuovo stage Uh, provato la red Bellissimo Oh Ok Ha fatto bene i source Di dare il Shad Ah, Shadr Quella non ha Non lo so Che mai era Era molto festa Occhio Ah, non ha visto forse il charge In mezzo Per esposione Non lo so Però Stai di fatto che La fonte Il prossimo hit Potrebbe portare alla stock Per entranti Attenzione Nel senso comunque sta stallando un po' Ah Il counter Per fortuna era un colpo Colpo debole Quindi non Attenzione Non riesce a finirlo Non riesce a finirlo Non riesce a finirlo Non è un fatto Molto Bastava un semplice Eh Possiamo even La prima even Even la stock La prima volta è nel senso Vi sa Quindi Non è tutto perduto Se Shadr comincia a creare un po' di cose Un po' di errori Ci sta facendo Un po' Guardarla Per me Allora Oh Mi sa che hai messo in cucciolo Oh La spike Un gioco di merda Cazzo Maffan The Dark Savas Win Un gioco di merda Un gioco di merda Un gioco di merda